Ciao a tutti, ieri sera ho partecipato a una splendida diretta con Max Sanfe nel suo canale e con il professore Matteo Saudino. Abbiamo parlato delle tesi di Severino spaziando dalle questioni più teoretiche e metafisiche legate al divenire a implicazioni di tipo etico e morale, ad aspetti legati a tali ambiti e ritengo davvero che sia una perla quella discussione, quel dibattito. Vi consiglio caldamente di andare a guardarla e di condividerla perché siamo riusciti a fare veramente, a istituire un dialogo gradevole, costruttivo, interessante e sono sicuro che guardandolo e ascoltandolo lo apprezzerete.